avevi ragione bastano un po' di calma e pazienza per conquistare la fiducia di un cavallo grazie al tuo consiglio sono sicura che noi due diventeremo ottimi amici e sai una cosa all'inizio temevo che i finimenti della casa reale non gli donassero tanto ma ho cambiato idea secondo me gli stanno proprio bene non credi imparare a capire le emozioni degli altri è molto importante vedi quella montagna laggiù si chiama monte di ranel ed è un luogo sacro a nairo la dea della saggezza conosci le leggi della tradizione chi non ha compiuto 17 anni è considerato immaturo e pertanto non può recarsi sul monte di ranel né alla fonte della forza né a quella del coraggio il mio potere è riuscito a manifestarsi ma su quella montagna si trova la fonte della saggezza e forse andando lì riuscirò non ne ho alcuna prova ma se c'è anche una piccola speranza per quanto fragile io ho il dovere di crederci con tutta me stessa sai domani compirò 17 anni devo provarci andrò su quella montagna allora Grazie a tutti.